Non esclude di ricorrere le vie legali, la Cisle Medici Vale Pelini Alto Sangro per la cronica carenza di personale all'ospedale dell'Annunziata che sta mettendo in ginocchio diversi reparti, salvo nuove assunzioni. Lo annuncia in una nota la responsabile Gianna Tollis, pronto soccorso l'orologia e reparti maggiormente in difficoltà, ma anche il centro trasfusionale in perenne emergenza. La situazione odierna, spiega la Tollis, è talmente al tracollo che è sufficiente una malattia o una richiesta di ferie per determinare il collasso di servizi e unità operativa. La nostra sigla sindacale ha già denunciato sulla stampa la situazione del centro trasfusionale a cui si è pensato di porre rimedio con un medico in servizio presso i laboratori analisi. Dunque si cerca di sanare una carenza, creandone immediatamente un'altra nello stesso presidio di Sulmona, soprattutto in questo momento in cui si stanno sostituendo le vecchie attrezzature con macchine nuove, in cui si deve riorganizzare il lavoro, in cui si deve investire per un futuro prestazionale adeguato alle esigenze. Il sindacato chiede l'assunzione a tempo determinato o indeterminato di uno specialista che possa dedicare la sua professionalità al centro trasfusionale di Sulmona e di personale a pronto soccorso. Nel pronto soccorso inoltre il personale è costretto a turni da 12 ore per permettere a tutti il riposo delle ferie. I medici in servizio sono diventati quattro, in urologia attualmente sono in servizio a due medici o responsabile, mentre si deve far fronte all'attività chirurgica, assistenziale e ambulatoriale, cresciuta negli ultimi anni in maniera esponenziale, in termini sia qualitativi che quantitativi. L'ospedale è quindi al tracollo e dalla CISL Medici arriva l'ultimatum.